Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube, oggi è sabato, lo so, solitamente siete abituati a non vedere niente, ma sono le 19 e è uscito il centrocampista più sbroccato della storia di foot, questa dovrà essere una bibbia per tutte quelle che sono le vostre domande, perché è uscito Renatino Sanchez nella versione Foot Birthday SBC e ce lo andiamo a guardare insieme un attimino e ci andiamo a togliere dei dubbi, prima di andarlo poi a testare e martedì vi riporterò quella che è la review con il gameplay, quindi poi per i giudizi finali. Aspettiamo martedì, passiamo quindi subito sulla schermata di Foot Bean dove ci attende sto mostriciattolo qua e vediamo subito che ha 4 di skill e 5 di piede debole, si era parlato tanto al riguardo dicendo 5-5, 5 di skill, onestamente a me va super bene che abbia 4 di skill e 5 di piede debole, cioè ha il set di Gullit fondamentalmente, no? Sti cazzi è perfetto, perché è molto meglio avere che abbia il piede debole sbroccato che ci può fare un passaggio col sinistro, un tiro di sinistro, può fare i controlli di sinistro, portare palla meglio rispetto a 5 di skill. Voi avete mai visto fare gli elastici a centro campo o lamentarsi che Gullit non avesse la quinta skill? Quindi già questo era stato un tema di battuto ma per me va benissimo così e non vedo quale sia il problema. È un metro e 76, alto alto di work rate, quindi perfetto per poter stare a centro campo e ha il body type unico, ok? Per quanto riguarda le statistiche è stato pompato il punto giusto. Questo cosa significa? Che ha solamente 87 di overall, quindi non è sbroccato 89-90 come si era visto nelle prediction eccetera eccetera. E il prezzo, regà, per me è estremamente contenuto. Sono tre sfide, un 85, un 86 e un 87, ma questo vale tutta la pena di sbloccarlo. Io con le carte che ho nel club credo di pagarlo, ma forse anche gratis probabilmente. Ma tutta la vita è da fare questo giocatore. Analizziamo. 88 di accelerazione e 88 di sprint speed praticamente alla Gullit 90. 99 di potenza tiro, certo a 78 di finalizzazione, ma questo tira delle mine anche perché ha 91 di long shot, quindi il tiretto da fuori matto lo potete anche provare. Ha 89 di corto e 86 di lungo, passaggi clamorosi. Ha 84 di agilità, 99 di equilibrio, 84 di reattività, 89 di ball control, 92 di dribbling, 84 di freddezza. Intercettazioni 82, difesa mentalità 85, standing take con l'85, scivolata 75 e di testa 76. Quindi quell'83 di difesa che voi vedete in realtà sarebbe più alto. È giusto deficitario per quello che è il colpo di testa e la scivolata, ma non ci importa. Ha 91 di salto, 97 di stamina, 86 di forza e 93 di aggressività. Ma questo che cosa vuol dire, raga? Praticamente si incolla, si francobolla alle caviglie avversarie, tanto le molla quando si è preso il pallone. Penso che tutti quanti, no? Ormai avete almeno una volta provato il Renato con l'84, non lo so l'IF. Questa è la versione superiore, è anche perfetto per il competitive perché ha 87, quindi la valutazione è top per le restrizioni. E vediamo quelli che sono gli upgrade rispetto alla carta 84. Ha un modesto più 3 in accelerazione e velocità. Ha poi un bel boost per quanto riguarda le statistiche di tiro, un discreto boost per quanto riguarda le statistiche del passaggio, eccetera, eccetera. Il boost più, diciamo, goloso, ovviamente lo abbiamo per quanto riguarda le statistiche difensive, dove abbiamo appunto un più 4 sia in mentalità difensiva e sia in standing tackle. Poi abbiamo un più 4 in intercettazioni che fa tutta la differenza di questo mondo e abbiamo un più 3 in aggressività e un più 3 in forza che anche in questo caso fanno tutta la differenza di questo mondo. Vi devo dire probabilmente anche un più 2 in freddezza, visto che quella freddezza 82, vedete, rientra nel verde chiaro. E il verde chiaro è un parametro che non è così proprio, sapete, rassicurante. Però già da 82 a 84 non siamo più su un parametro borderline, ma ci iniziamo già ad affacciare ad un parametro che può essere un pochino più alto. Quindi, secondo me, siamo in presenza di un centrocampista che va sbloccato a tutti i costi. Io adesso già le vedo le domande nei vostri commenti. Quindi, ribe, io ho sbloccato Vidal, Renato lo devo fa', ribe, io ho Mataus Prime, ribe, io ho Gullit Prime non scambiabile, io ho Bruno Pot, io ho questo, io ho quell'altro. Ragazzi, respirate e ragionate. Allora, se avete fatto già Vidal, ok, magari avete una Serie A, ovviamente non vi andate a sbloccare questo Sanchez qui. A meno che non avete magari carte nel club e avete poi l'obiettivo futuro di poter andarlo a sostituire e quindi metterlo poi in squadra, magari lo bypassate, ok? Che ne so, avete Gullit non scambiabile, Bruno Pot, quindi che ne so, ipotesi. Abbiamo Gullit e Bruno non scambiabile, fare Renato no, però nel caso in cui hai già Bruno e Mataus, per me ha molto più senso magari cercare di mettere sto Renato che è sbroccato. Ragazzi, io sono sicuro che è sbroccato, ci metto la mano sul fuoco, poi non è sbroccato, mi assumiò le responsabilità. Ma sta carta qua va sbloccata a tutti i costi, su questo credo che non ci siano dubbi. Quindi, sicuramente è uno dei top centrocampisti al momento, può fare tranquillamente il CC nel 4-4-2, il CDC nel 4-2-3-1, può fare il CC in un 4-3-1-2, in un 4-1-1-2, può fare praticamente qualsiasi tipo di ruolo. Già so che adesso arriverà anche qualche domanda, arribe Renato nel 5-3-2, lo posso mettere anche difensore centrale? Probabilmente sì, visto che parliamo comunque di un giocatore che è 1-76 con un alto alto, e in più ha 93 di aggressività, come dicevamo in precedenza, e 85 di mentalità difensiva. Quindi statistiche molto molto alte. Io, il consiglio che vi do, vi ripeto, è di dargli uno sguardo, perché vi ripeto, costa poco, mi aspettavo un prezzo molto più alto, avevo detto sul milioncino, e invece la SBC costa più o meno 700k. Sono tre, tra IF che magari avete nel club, PIC rossi, eccetera eccetera, carte non scambiabili, per me si fa easy. Vi ripeto, se avete qualche altro paragone che magari volete lasciare nei commenti, magari inizio a rispondervi, per quanto riguarda Renato, meglio di questo, meglio di quell'altro. Però, martedì, dopo averlo sbloccato, andrò a portarvi la review col gameplay, quindi potrò dirvi effettivamente se è meglio di quello dell'Europa League, se è meglio di questo, se è meglio di quell'altro, e piano piano metteremo a posto tutti i tasselli. Adesso c'è un hype pazzesco, però questo qui è veramente un bel, 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 bel giocatorino. Non me l'aspettavo, evento di Footbird che ci ha regalato, secondo me, la promo migliore dell'anno al momento in termini di carte, visto che ce ne sono veramente tante, che possono diventare tranquillamente titolari nella maggior parte delle nostre squadrette. Quindi, raga, per quanto riguarda questa che possiamo chiamare una flash preview, una flash review di Renato Sanchez e tutto, ci tenevo a farvi uscire questo video per iniziare a mettere le cose in ordine. Quindi, Renato, da sbloccare, raga, a meno che non ci avete proprio i mostri finali, perché inferiore a sto Renato, veramente, ci sono tutti, tranne, penso, Gullit, Viera, Bruno, Toti, eccetera, eccetera. Ma paradossalmente, secondo me, è meglio anche di De Bruin, Toti e Kimmich, Toti, questo. Quindi, anzi, togliete il secondo me. Quindi, per sfugare i primi dubbi questo video, martedì review con gameplay, io me lo vado a sbloccare, non vedevo l'ora che stavo giocando con Renato Sanchez base e non vi lascio immaginare quello che è successo stamattina in Weekend League. Vi auguro una buona serata, fatemi sapere nei commenti se lo farete, vi ricordo un bel like, domani saremo in live sulla piattaforma Viola, info in descrizioni per testarlo e appunto finire di sbloccarlo, perché ora mi imposto solo la SBC. Un saluto da Alvisto Liberoschi e ciao ciao, fate bravi, buon sabato.